Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di barba e sport, come mantenere la barba in forma durante l'attività fisica. Ma prima di iniziare mi presento, per chi non mi conosce, io sono Paolo Salomone e con mio fratello Eliseo abbiamo creato Solomons, un brand dedicato alla cura e alla bellezza maschile. Iniziamo con il dire che l'attività fisica aumenta la sudorazione e può rendere la barba più umida e disordinata, ma non preoccupatevi, ci sono alcuni trucchi e consigli che potete seguire per assicurarvi che la vostra barba resti pulita, fresca e stilosa anche dopo un'intensa sessione di allenamento. Il primo passo è la pulizia, è fondamentale lavare la barba regolarmente, soprattutto dopo aver sudato molto. Io consiglio di usare uno shampoo per barba specifico perché è più delicato sulla pelle e aiuta a mantenere i peli idratati. Assicuratevi di sciacquare bene tutti i residui di sapone per evitare irritazioni. Dopo la pulizia è importante asciugare adeguatamente la barba, tamponatela delicatamente con un asciugamano pulito, evitate di strofinare troppo forte. Un altro aspetto importante è l'utilizzo del balsamo per barba per mantenere i peli morbidi e la pelle sana, questo aiuta anche a mantenere la barba ordinata e lucente. Per gli uomini che praticano sport all'aperto non dimenticate la protezione solare, la pelle sotto la barba può bruciarsi facilmente, quindi applicate una crema solare adatta con protezione dai raggi ultravioletti. Infine parliamo di stile, se fate sport regolarmente potreste considerare un taglio di barba più corto e gestibile, spesso i clienti che fanno sport preferiscono uno stile che non richieda troppa manutenzione e si adatti al loro stile di vita attivo. Ricordate la chiave è trovare una routine che funzioni per voi e per il vostro tipo di attività fisica. Ecco questo è tutto per oggi. Per chi ha avuto il piacere di ascoltare questo video fino alla fine, la sorpresa è che questo contenuto è stato realizzato grazie all'intelligenza artificiale, ma ricordate le sapienti mani di un barbiere non possono essere ancora sostituite, spero che questi consigli vi aiutino a mantenere la vostra barba in grande forma mentre godete dei benefici dello sport e dell'attività fisica. Non dimenticate di lasciare un commento qui sotto con le vostre domande e iscrivetevi al canale per altri video su come prendersi cura della vostra barba e della vostra bellezza maschile.